Vuol dire, merita il fiore all'occhiello di questa riconi? Io credo che non uccida affatto la rappresentanza, anzi la potenza. Perché se la camera funziona e se la camera diventa il vero architolo dell'esistenza o non esistenza del governo, scusi, se la camera funziona e diventa il vero architolo dell'esistenza o non esistenza del governo, della fiducia e della sfiducia, la camera può contare molto di più di quanto non conti oggi. Su questo bisogna riflettere e fare un chiarimento, perché il vecchio mito della centralità del Parlamento, il nome della rappresentanza, è un mito, è proprio un mito, non è mai esistito. Non è mai esistito in Italia e non è mai esistito in altri paesi, anche in paesi come la Svezia che hanno una camera sola e sono felici di avere una camera sola, non vogliono sapere di serati, comunque con c'è. Non c'è dubbio che quel fenomeno che noi chiamiamo multilivello, il costituzionalismo si chiama così, una brutta parola, ma significa sostanzialmente che il potere oggi è diviso un po' in uno strato. C'è l'Unione Europea, ci sono gli Stati Nazionali, ci sono le autonomi personali, ma non solo le autonomi personali, anche le città che contano e possono contare molto sulla vita dei cittadini, sulla esigibilità degli. In una situazione di questo tipo, dove il potere è frammentato in almeno quattro grandi esecutivi, il sindaco, lo giusto regionale, il presidente delle zone, il governo nazionale e la Commissione Europea e il Consiglio Europeo, l'intergovernamentale, l'intergovernamentale. È molto difficile che le assemblee elettive continuano qualcosa, perché il gioco è un gioco di relazioni fra esecutivi. Io ai miei studenti lo spiego così, vediamo se consumo tutto il mio tempo, ma è una cosa abbastanza divertente. Per riunire i governi europei ci vuole un tavolo con 28 posti. Sì, sono 28 perché i francesi si presentano in due, il Presidente della Repubblica e il Capone. Qua insomma queste sono un tavolo che non ha molta importanza, perché sono davvero un semipresidenzio. Per mettere insieme tutti i parlamenti europei ci vuole un palazzetto dello sport, ma di per i grossi, con almeno 12 mila posti, d'accordo? Con qualche migliaio di posti. Ora, mentre da un incontro fra 27 e 28 persone può uscire fuori qualche decisione, brutta, buona, dipende da chi ci sia mandato, dipende da noi elettori. Da un'assemblea di qualche migliaio di persone che si uniscono un giorno in un palazzetto dello sport, non esce fuori niente. Non si fa nemmeno a malapena tempo a far parlare tutti, si fa parlare qualcuno e forse qualcuno dice qualcosa, ma è molto difficile votare, che si vota qualsiasi cosa. Questo è il problema oggi della rappresentanza della Repubblica. Ma visto in chiave europea, ma si può tranquillamente vedere in chiave italiana il gioco fra Stato e Regioni, non si decide nel Parlamento. Forse un giorno si deciderà in questo Senato del 2019. Per ora si decide in un posto, la conferenza Stato e Regioni, città, dove non ci sono nemmeno i verbali. Io ho fatto studiare tanti miei andieri, la conferenza, sono comandati a Roma, comandati lì e non gli danno i verbali perché non esiste una verbalizzazione. Il governo, quando incontro gli assessori o i disegni di regione, non fa verbali. Si trova l'accordo, si rimane l'accordo non si deve fare. Questa non è democrazia. Allora, il problema della democrazia e della rappresentanza è un problema abbastanza complesso oggi. Attenzione ad illudersi che basta richiamare le istituzioni di un tempo per farlo vivere. Occhio. Perché il gioco della nostalgia di dire basta tenere in piedi quella Costituzione di ora che si risolve il problema è un'illusione. di un'illusione. Questo non è così costoso. Poi bisogna vedere cosa cambiave e come cambiave solo perché se fai niente d'accordo, devi essere cauti, fare meno referendum e forse più dibattiti, più discorsi.